A Ponte nelle Alpi l'inaugurazione della nuova sede dell'associazione Gruppi Insieme Si Può. I nuovi locali si trovano in piazzetta Bivio, nei pressi della farmacia. Autorità volontari e simpatizzanti sono stati chiamati a partecipare a questo momento speciale che ha fornito anche l'occasione per un riepilogo dei progetti in corso. Tra questi c'è anche un'iniziativa particolarmente legata al Natale. Si tratta di Regali Senza Frontiere. Si sceglie da cito uno dei progetti portati avanti dall'associazione In Giro per il Mondo che prevedono una donazione che va dai 20 ai 50 euro e una volta sostenuta la missione scelta si ottiene un biglietto di auguri in cui viene spiegato il significato di quel dono e il progetto stesso che potrebbe invogliare il destinatario di un regalo a donare a sua volta.